E' la prima incubatrice in grado di far sentire ai non nati prematuri la voce della mamma. La macchina è stata presentata oggi all'ospedale di Pescara, alla presenza dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Abbiamo in dotazione, ringrazio le associazioni, uno strumento importante, avere una culla termica che non risponde solo a quelli che sono i bisogni primari di un bambino nato prematuro, ma anche che porne un'attenzione alla relazione, al vissuto, alle emozioni. E' un punto di forza per questa realtà di Pescara, della neonatologia. L'incubatrice riproduce suoni che non danneggiano i fragili timpani dei nonati. Le piccole creature così, seppur isolate per questioni di salute, possono sentire racconti, musica o la voce della propria mamma. La mia idea era quella di inserire quale energia della mamma, la sua voce. E quindi il tema era, inseriamo la voce della mamma nell'incubatrice. Ma nell'incubatrice non si possono mettere apparecchiature. Siamo arrivati a questo sistema di vibro-trasduzione, all'interno non ci sono apparecchiature. Questa apparecchiatura si chiama vibro-trasduttore, trasmette vibrazioni a questa parte rigida, trasparente dell'incubatrice. La vibrazione crea l'onda sonora, all'interno si sente la voce. Le prime esperienze, quelle che viviamo appena nati infatti, sono di fondamentale importanza per l'imprinting del bambino, che così non rischierebbe di sperimentare la solitudine come primo avvenimento della vita. Ascoltare la voce della madre quando la madre non c'è sicuramente riduce lo stress del neonato. Addirittura ci sono studi che hanno messo in evidenza come durante dei prelievi venipunture, prelievi capillari, il neonato sente meno dolore. Quindi sicuramente uno strumento innovativo che sarà molto utile per lo sviluppo neurologico del prematuro. Sono importantissime il nostro imprinting. Non riusciamo a riprodurre quelle che sono le condizioni dell'utero materno, ma con quella che è l'umanizzazione delle cure e la care sicuramente ci stiamo avvicinando tanto per poter poi migliorare il futuro di questi neonati.